Nell'attesa che gli esami tossicologici successivi all'autopsia diano ulteriori elementi conoscitivi riguardo le cause della morte di Niri d'Aroa, la donna venezuelana di 45 anni, rinvenuta cadavere nella mattinata di venerdì scorso all'interno della sua abitazione di via Fratelli Cervi, non si ferma il lavoro degli inquirenti per fare pienamente luce sulla vicenda. Nonostante si faccia sempre più strada all'ipotesi del suicidio, anche se comunque attuato in modo quanto meno particolare, al momento resta indagato per omicidio il marito della donna. Un provvedimento che gli uomini del commissariato rivale della Vittoria avevano assunto di concerto con il magistrato titolare dell'inchiesta già al termine della convulsa giornata nella quale avvenne il rinvenimento del cadavere. Nonostante nel corso del lunghissimo interrogatorio l'uomo avesse manifestato la sorrotale estranetà ai fatti, ripercorrendo con calma quanto avvenuto nel corso della mattinata di una settimana fa, per lui era arrivato il provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Ad attenuare ulteriormente la posizione del marito potrebbe arrivare la definizione oraria esatta del momento del decesso. Nel corso dell'interrogatorio l'uomo ha infatti dichiarato di essere uscito nella mattinata di venerdì scorso per compiere alcune commissioni e tutto lascia ritenere che abbia prodotto prove testimoniali fornendo orari e nominativi di persone che possono averci parlato o che possono averlo veduto. Ebbene, se dovesse emergere che la morte di nirida è avvenuta proprio nell'asso di tempo in cui il marito era fuori di casa, la posizione dell'uomo si attenuerebbe di molto. A quel punto bisognerebbe solo attendere i risultati degli esami tossicologici per poi valutare se l'inchiesta può essere chiusa per suicidio o agire diversamente.